Da più di 60 anni ci prendiamo cura del nostro territorio. Lavoriamo giorno e notte per mantenere pulizia e decoro, i luoghi pieni di storia e bellezza, tra le province di Firenze, Prato e Pistoia. Diamo nuova vita ai nostri scarti. Avviamo al riciclo l'85,4% dell'organico, il 90% della carta, il 60,4% degli imballaggi, il 96,5% del vetro. Insieme, con i nostri e i vostri gesti quotidiani, possiamo fare ancora di più per migliorare l'ambiente e la qualità della vita nelle nostre città. Facciamo una corretta raccolta differenziata. Non abbandoniamo i rifiuti per strada o accanto ai cassonetti. Scopri i nostri servizi su aliaserviziambientali.it o sugli altri canali. Facciamo una corretta raccolta.